Grazie a tutti. 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 Da parte mia, come diceva Nicola, sindaco, c'è stata poi l'attenzione a cercare di far combaciare un po' tutte le esigenze. È stata un'impresa a trovare questo spazio, ma ce l'abbiamo fatta e è stato uno spazio, diciamo, voluto fortemente da Virginia perché lei vuole essere il centro di questa iniziativa per il momento. E lei mi diceva, non voglio stare vicino a casa per poterla raggiungere sempre, allora ho lo spazio per te. Ecco, abbiamo trovato lo spazio è stato felicissimo e sono contenta perché lei ci sta portando una ventata di novità, nonostante possiamo dire la sua esperienza, la sua età più giovanile che molti altri giovani. Ecco, quindi l'accogliamo volentieri e veramente tra lei, Dolores, Gianni e Loredana, che ringrazio vivamente, finalmente siamo riusciti ad aprire questa mediateca. che all'inizio dicevo anche io, non so, chissà se riusciamo davvero, e invece ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Grazie ancora a tutti. Ecco, allora, innanzitutto devo dire che per me è una piacevole sorpresa. È stata lunga arrivare qua, brutto tempo, però dico ho promesso e ci vado. Allora, chi sono io? No? Vabbè, sono Giorgio Casagranda, sono, stavo raccontando prima a loro. Allora, innanzitutto ne approfitto per dire perché potrebbe essere un'occasione, mi occupo di lotta allo spreco alimentare. Sono presidente di Trentino Solidale, che è un'associazione, scusate, non guardatemi male, ma provo a seminare anche qua, visto che sono arrivato, che va nei supermercati, prende il cibo in scadenza e lo distribuisce alle famiglie bisognose. Lo facciamo sei giorni alla settimana, raccogliamo e distribuiamo mediamente 80 quintali di cibo al giorno, di cibo fresco, che viene distribuito da 700 volontari, che vanno da Vipiteno a Daffi. Quindi credo che sia una bella opportunità. In valle siamo presenti a Tione con Robin Hood, con Silvio Lagiusi. Non so chi la conosce, però sono loro e lì operiamo già da parecchi anni lì. La bassa, diciamo, che potrebbe pensarci e fare qualche ragionamento. Il giorno di Santa Lucia abbiamo coperto l'ultima parte del Trentino in Val di Nonne, a Tuenno. Quindi anche lì c'è un sindaco giovane, glielo ho detto subito come l'ho visto, come lui più o meno avrà la stessa età, e ha capito al volo che questa era un'opportunità, ha messo a disposizione i locali e noi abbiamo iniziato la nostra attività come volontari. Siamo tutti volontari, a partire da me, che sono il presidente, fino all'ultima delle persone che è arrivata questa mattina. Costi zero. Non mi dilungo oltre su questo, poi se avrete voglia ci sarò. Sono qui anche, e ne approfitto anche di questo, in veste di presidente di tutto il volontariato trentino. Sono presidente del centro servizi volontariato del Trentino. Significa che le 3.500 associazioni del Trentino possono ricevere servizi da noi. È una struttura che è a Trento, abbiamo 12 dipendenti che hanno competenze che vanno da quella giuridico-fiscale fino a quella di andare a parlare nelle scuole per far sì che i giovani si avvicinino al volontariato. E lo facciamo gratuitamente perché esistiamo per legge. Verremo a Tione, penso nel mese di febbraio, a fare una riunione con le associazioni di questa parte del Trentino. Ho iniziato a Rovereto, ho fatto la Rotaliana, sono stato a Moena, la prossima sarà a Cles, poi verremo qui e andremo a Riva e l'ultima la facciamo a Pergine in occasione del ventennale della nascita di questa realtà che opera a livello provinciale. Approfittatene perché noi lo facciamo gratuitamente. ho fatto la mia, no? Ho venduto, ho venduto, però se non si deve... No, no, no. No, però volevo dire che questa idea, e non sto a ripetermi quello che ha detto il sindaco e l'assessore, mi sembra bellissima, mi piace questa idea di contaminazione poi, no? fra il sud e il nord e vedere questo entusiasmo non fa altro che rallegrarmi. Io conosco molto bene anche le realtà in giro per l'Italia perché sono in Consiglio Nazionale del Volontariato e mi occupo anche dell'area Europa. E in tal senso, ve lo dico io, sabato ero a Danzica in Polonia dove Trento, ma io dico il Trentino, sarà capitale europea del volontariato nel 2024. Vi garantisco che è un traguardo inimmaginabile. Quando io ho proposto di farlo mi tremavano le gambe al solo pensiero. Ci siamo riusciti, ci saranno mille opportunità dall'arrivo del Presidente della Repubblica a tutti gli Stati europei che hanno votato e che hanno capito, no? Eravamo in inizio con Leopoli. Quindi eravamo rimasti in due. E quindi abbiamo lanciato un ponte naturalmente anche verso Leopoli perché era giusto che pur vincitori non ci dimenticassimo anche di loro e li coinvolgeremo nelle iniziative che porteremo avanti. Quindi è un motivo di orgoglio per il volontariato trentino che è stato riconosciuto, meritevole di avere questo titolo. Quindi ci sono qua di volontari, no? A partire dai circoli anziani ma tanti altri, immagino, perché insomma in Trentino abbiamo 3500 associazioni. Un Trentino su cinque fa volontariato. Questi sono i dati e su questi dati abbiamo costruito anche la nostra vittoria. Quindi vi auguro veramente un risultato che sarà... Ho letto qualcosa, no? Sono rimasto meravigliato della storia di questa valle. Meravigliato? No, ma io sono di Trento, eh? Non è che... Ho fatto anche l'amministratore pubblico e quindi, no? Eppure mi ha veramente entusiasmato. Sì, no, veramente. Quindi verrò a vedere anch'io poi, no? In occasione di qualche altra manifestazione in cui verranno illustrati i traguardi che avete raggiunto. Vi auguro buon lavoro e colgo l'occasione per augurarvi anche buon Natale. Che sia l'occasione per tutti di essere felici, contenti. Bene. Allora, Natale, no? Natale è il periodo dei doni, del dono, quindi il dono, no? Per chi è credente di Cristo al mondo. E credo che forse è l'occasione migliore per inaugurare questo posto. Allora, Monadu, il Movimento Nazionale per i Diritti Umani, ovviamente si occupa di diritti, è normale, deve difendere i diritti umani, ma anche il diritto alla cultura, alla conoscenza, è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, anche questo. Quindi, perché abbiamo voluto fortemente uno spazio come questo, e io ringrazio l'amministrazione per aver comunque capito l'importanza di quello che volevamo ottenere e fare a storo, perché la storia è importantissima, c'è chi la conosce in vari modi, ma uno spazio come questo, che magari è dedicato, e si pensa, insomma, possa essere dedicato solo ai giovani, ai ragazzi, io invece lo vedo molto di più per quelli di una certa età in poi, perché? Perché potranno vivere esperienze diverse con la realtà, magari mai vissute, con la realtà aumentata, e con quello che, insomma, adesso andremo anche a vedere, perché ci sarà un video di presentazione, capirete bene che cos'è. Dico, ringrazio l'amministrazione, perché ci ha dato questo luogo, questo spazio, che a noi basta, perché inizialmente questo spazio ci è sufficiente, in quanto questi contenuti non occupano molto spazio, quindi. Noi abbiamo incominciato, questo è un primo passo, ovviamente, abbiamo cominciato con una piccolissima cosa, ma l'intendo, e ci sono già progetti in atto, e di espandolo sempre di più, di riempirlo sempre di contenuti, ovviamente, nel corso del tempo, e degli anni, perché ci vuole anche tempo, e sapete che poi, oltretutto, ci vogliono risorse, questa è la cosa, e dobbiamo cercare di reperirla. Grazie al presidente del centro del servizio del volontariato di Trento, e con questo successo, perché essere capitale europea del volontariato, insomma, l'ha detto, lui è una cosa difficile. Quindi noi vogliamo proprio creare, ampliare ancora di più la rete, dal nord al sud, ma perché? Perché la cultura, in effetti, non può avere un confine, non può avere, no? Più se ne ha, e meglio è. Ma proprio per la vita di tutti, di noi, dei nostri figli, del futuro, la conoscenza, secondo me, è fondamentale, in ogni campo. abbiamo quindi voluto accontentare anche Virginia, perché Virginia, è nel nostro cuore, Virginia ha vissuto per 42 anni a Potenza, in Basilicata, e anche lì è stata sempre impegnata in attività sociali e culturali. Lei poi, venendo qui su, si sentiva veramente un po' a metà, perché è tornata a casa sua, però una parte del suo cuore è rimasta giù. E quindi questo è anche un'occasione, sarà il luogo dell'incontro, dell'amicizia, e speriamo che, che vada sempre, sempre più riempendosi, ok? Certamente, ci puoi portare, ci potete portare. Lei si impegnerà, noi ci impegneremo, e vedrete, con, ovviamente con l'aiuto, perché senza di loro, non potevamo fare niente di loro, perché so che è appoggiato anche la sua associazione, appoggiate anche dall'associazione del voi. Quindi, l'unione fa la forza, non esistono i confini, siamo, siamo, noi siamo persone. Adesso io, dopo ci sarà anche un rinfresco, nel frattempo, voglio salutare, faccio, deve dire due parole Virginia, e poi subito dopo vedrete qualcosa di questo nostro lavoro, di quello che cos'è, che cos'è la mediateca. Grazie. Buonasera, e grazie a tutti, intanto. Ebbene, perché siamo qui? Tanto, cioè, otto anni fa, abbiamo, scusate, io mi agito, abbiamo, avevo deciso di tornare al paese, data l'età, perché un'amica mi ha detto, che aspetti? Ha detto, se non vieni subito, eh, ho detto, beh, non ci penserò. Comunque, Nord-Sud, per me, è un'unica regione, la Basilicata, e il Trentino, non c'è nessuna differenza. Tanto è vero, che, guardate quanti, abbiamo della Basilicata. praticamente, loro, quando sono salita, mi hanno detto, ma perché non torni giù di nuovo? Ho detto, ma avete capito che età ho? Allora, mi ha detto, allora verremo noi da te. E così è stato. Io, mi ha mandato, mi ha mandato, un messaggio, sempre con le amiche calvi, che io la giorno, abbiamo fatto volontariato insieme, avevamo un'associazione dei bambini, poi l'abbiamo fatta, meravigliosamente, ricambiata, cioè, sì, quello che vuol dire, Virginia, è che Monadu nasce, nel 2009, in effetti, come Movimento per l'infanzia, Basilicata, e poi, con l'adeguamento del terzo settore, abbiamo scelto di ampliare, un pochettino, quelli che erano gli interessi, perché dedicarsi sia all'infanzia, è importantissimo, però, perché non includere, anche nei diritti dell'infanzia, tutti gli altri, quelli dell'uomo, e quindi siamo, abbiamo voluto ampliare, un pochettino, il raggio di azione, ed è diventata Monadu. E così, io, la prima cosa che sono arrivata, sono andata a cercare, la nostra sessore, a Mariella, e ho detto, Mariella, tu aiutami, perché ho bisogno, io voglio curare, fare quella stessa cosa, che facevo lì, e Mariella mi ha detto, qui c'è un centro, e difatti, per tre anni, sono stata nel centro, felice di curare i bambini. Poi, abbiamo iniziato quella, Gloridana mi ha chiamato, mi ha detto, guarda che adesso, io ho preparato un progettino, vengo su, allora ho detto, vieni su, vieni su, che c'è, che siamo fortunati, abbiamo Mariella, è il sindaco, che ci capiranno, di fatti, non me l'aspettavo, così, grazie, e comunque, abbiamo fatto, e non ci credeva nessuno, poi Mariella mi ha detto, sai che è tutto bene, ho detto Mariella, allora, che faccio, ma c'è un bel locale, giù a Baitoni, Mariella, ma io come faccio ad andare a Baitoni, come faccio, che non ho né macchina, perché non me l'hanno lasciato portare, ma poi, mi ha cambiato anche un ginocchio, come faccio ad andare, Mariella ha detto, va bene, e va bene, vieni con me, ha preso le chiavi, ho detto, beh, avrò da parlare, quando mi ha fatto vedere questo, mamma mia, che gioia, vero? Non pensavo proprio, proprio di fronte, io mi auguro di poter fare tante cose, perché c'è un cuore pieno, grazie di tutti, grazie agli amici, grazie di tutto, e scusatemi se io mi agito, scusatemi, grazie, grazie, grazie. grazie, 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 grazie,